Buon pomeriggio a tutti. Audizione di Oliver Onidi, vice direttore del Dipartimento Migrazioni e Affari Interni, coordinatore dell'Antitrafficking della Commissione Europea. Comunico che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a la trasmissione in diretta streaming sulla web tv della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza di Oliver Onidi, vice direttore del Dipartimento Migrazioni e Affari Interni, coordinatore dell'Antitrafficking della Commissione Europea. Che ringrazio, buon pomeriggio. Ringrazio di cuore per aver aderito all'invito della nostra bicamerale. Desidero ricordare che l'audizione si svolge nell'ambito dell'indagine conoscitiva gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone. In tale ambito il dottor Onidi ci illustrerà le principali attività connesse in qualità di coordinatore del Dipartimento Antitrafficking della Commissione Europea, con particolari riferimenti e dati acquisiti in merito ai flussi provenienti dalla rotta balcanica. Avverto che l'audizione si svolgerà in lingua inglese, anche stato attivato l'impianto di traduzione simultanea. Quindi noi sentiremo qui in aula la traduzione degli interpreti con un collegamento in una sala adiacente realizzato per l'occasione dai tecnici informatici e radio televisivi. Ringrazio gli interpreti che ci quadriano in questa nostra audizione, che quindi sarà possibile ascoltare in lingua italiana. Anche le eventuali domande saranno poste in lingua italiana e tradotte in inglese per il dottor Onidi. Do quindi la parola dottor Onidi, che ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito. Prego. Grazie Presidente. Mi scusa di non posso parlare in italiano, deve farlo in inglese. I'm really sorry for this. Mi scuso, è un grande onore Presidente aver ricevuto questo invito al Comitato Schengen per darvi informazioni aggiornate sul fenomeno del traffico di persone nell'Unione Europea. Si tratta di un tema di grandissima importanza e sono veramente profondamente grato al Comitato per l'attenzione che sta dedicando a questa tematica. Un fenomeno che purtroppo sta crescendo, è in crescita, il numero delle vittime cresce anno dopo anno. I dati non sono purtroppo molto attendibili perché anche le fonti dei dati sulle vittime del traffico non sono estremamente affidabili, ma abbiamo dati su 10.000-10.000 vittime all'anno, è probabilmente sottovalutata ed è comunque in crescita questa cifra. Purtroppo il 50% delle vittime del traffico sono cittadini dell'Unione Europea, la metà delle vittime e il traffico avviene all'interno, i flussi di traffico avvengono all'interno dell'area Schengen, è quindi un tema per l'Unione, è un tema che ha anche una dimensione di genere molto marcata, il 70% delle vittime sono donne o addirittura ragazze, il 60% delle vittime sono anche vittime di sfruttamento sessuale e il 90% di questa categoria sono donne e ragazze. Per quanto riguarda il traffico dei minori cifre molto elevate, il 25% delle vittime sono fanciulli, sono minori quindi persone estremamente vulnerabili ad ogni tipo di violenza. Ci sono gruppi della criminalità organizzata molto sofisticati diciamo che sono alla radice di questi abusi e noi veramente facciamo affidamento su un paese come l'Italia, l'Italia con una grandissima esperienza nel contrasto alla criminalità per poter meglio reprimere queste organizzazioni per il contrasto, quindi per smantellare queste organizzazioni che spesso hanno carattere internazionale trasfrontaliero. Ripeto che queste organizzazioni sono molto abili anche nello spostare i fondi, i denari e quindi poco, una piccola parte, sul 2% dei proventi del traffico viene confiscato e quindi c'è molto, moltissimo da fare per poter condannare queste persone e sequestrare i proventi di queste attività criminose. Sono molto abili anche nell'uso delle nuove tecnologie. Purtroppo abbiamo visto in questi sciagurati tempi di Covid queste organizzazioni criminose si sono rivelate estremamente versatili, capaci di utilizzare gli strumenti online e gli strumenti del spazio cibernetico per svolgere le loro attività dalla fase di reclutamento delle vittime al sfruttamento di queste persone. Quindi uno dei principali fenomeni che noi vogliamo contrastare sono gli abusi sessuali a carico dei minori, uno dei volti più, delle sfaccettature più fosche di questo fenomeno. Cosa facciamo nell'Unione Europea per rispondere a questo fenomeno, per sostenere gli stati membri nell'attività di repressione, di contrasto, nel sostegno alle vittime? Abbiamo sì un quadro normativo complessivo che rende un reato penale la fattispecie di traffico. Abbiamo una definizione giuridica minima armonizzata, valida per tutti gli stati membri. Noi raccomandiamo comunque che venga reso reato penale le attività dei trafficanti, vorremmo che questo fosse obbligatorio, l'introduzione di questa fattispecie di reato penale. Sosteniamo anche gli stati membri nell'attività di tutela delle vittime, quindi sostenendo e finanziando le organizzazioni della società civile lo scambio di buone pratiche, organizzando anche reti di coordinatori dei Paesi membri, dei coordinatori nazionali ovviamente, e poi le agenzie specializzate come Europol debbono essere sostenute negli sforzi appunto investigativi, non soltanto per quanto riguarda l'azione penale. Sosteniamo anche gli stati membri per quanto riguarda le procedure che possono portare alla condanna di questi criminali. Il nostro sguardo va anche al di là dei confini dell'Unione Europea, perché molte delle vittime provengono da Paesi terzi. Noi diamo sostegno finanziario anche in quei casi, ad esempio i Paesi che sono più vicini a noi, cercando di creare in loco delle opportunità economiche per dissuadere le persone dall'emigrare, dal cadere preda delle reti dei trafficanti. Sosteniamo questi Paesi anche nelle capacità di indagini penali e ovviamente stiamo approfondendo in questa fase la dimensione virtuale online, cioè ci sono attori su internet che cerchiamo appunto di coinvolgere e cercare appunto di incoraggiare questi Paesi anche con degli obblighi di legge a vagliare, a filtrare i risultati delle ricerche e obbligando alcune piattaforme a rimuovere contenuti collegati al reclutamento di potenziali vittime. Questi sono alcuni esempi. Siamo in fase di revisione del quadro normativo inserendo anche il contrasto al traffico come e il fenomeno come, diciamo, aspetto trasversale in altre politiche come ad esempio le politiche migratorie, ad esempio delle verifiche obbligatorie ai confini dovrebbero poter individuare in una fase precoce le potenziali vittime di traffico, aumentando anche le risorse per quanto riguarda il contrasto al contrabbando perché anche alcune attività di contrabbando comportano anche, diciamo, fenomeni di traffico e poi guardiamo anche le politiche del lavoro, le politiche occupazionali per evitare appunto forme di lavori forzati o quindi per contrastare l'uso del lavoro forzato all'interno delle nostre economie. Quindi questa è una prima disamina delle iniziative a livello europeo, sempre nell'ottica di sostenere le azioni nazionali e quindi abbiamo, voglio ribadirlo, la fortuna di avere nell'Italia un partner forte, un interlocutore estremamente efficace nel contrasto a questi fenomeni e sempre pronto a collaborare con altri Paesi membri dell'Unione. Grazie Presidente. Grazie, grazie per il suo intervento. Dal canto nostro per quanto riguarda la nostra bicamerale confermo ogni azione che possa essere utile per dare l'apporto dal punto di vista del Parlamento italiano contro il traffico di esseri umani, contro questo ignobile fenomeno. Noi ci siamo con i nostri dieci senatori, dieci deputati e tutto quello che si può fare lo facciamo e lo faremo. Ogni azione sarà utile e preziosa per contrastare quanto non deve succedere nei nostri territori e che purtroppo va anche a colpire minori, donne e altre situazioni per cui si combatte. I colleghi presenti in sala, in aula? Prego, senatore Zuliani della Lega. Grazie Presidente, grazie per l'illustrazione. Chiedo alcune precisazioni in merito ai dati che lei ha esposto perché forse non ho ben compreso io su un dato e sull'altro. Chiedo un consiglio a me e a tutto comitato. Per quel che riguarda i dati esposti, lei ci ha detto che il 50% del traffico delle vittime avviene in ambito UE. Volevo sapere se può precisare questa sua affermazione, se sa quali siano i paesi maggiormente coinvolti e come lei consiglierebbe con questa utilizzazione di lavorare con il nuovo governo e con il Parlamento al fine di contrastare il traffico all'interno dello spazio UE. Poi, altra domanda che volevo farle è la seguente. Lei ha detto che si renderebbero necessarie verifiche obbligatorie con fini per individuare le vittime. Ecco, chiedo se può essere più preciso su questo, se ci può consigliare su quali siano le azioni da adottare ai fini di individuare le vittime di tratta. Grazie. Grazie, senatore Zuliani. Ci sono altri interventi? Nessuno? Quindi diamo la parola al dottor Onidi. Prego, dottore. Grazie per queste domande. Se andiamo a vedere tutte le vittime che sono identificate, riscontriamo che la metà, il 50% delle vittime sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, provengono e sono cittadini. Tipicamente queste persone vengono dalla Bulgaria alla Romania, dove ci sono gruppi criminali estremamente sofisticati che poi stradano queste persone per vari fini in altri Stati membri. Del 50% che non sono cittadini dell'UE, i due terzi provengono tramite i flussi illegali, i flussi migratori illegali. Quindi è necessario un forte supporto nel contrastare le attività di contrabbando, diciamo, attività che facilitano l'arrivo di immigranti illegali nell'UE e rafforzare anche la capacità nostra di individuare l'arrivo di immigranti illegali, ma tra quelli soprattutto andare a individuare quelli che possono e sono potenziali vittime della tratta, del traffico. Se andiamo a vedere l'origine e le origini delle vittime non cittadini europei, molti provengono dai paesi dei Balcani occidentali, quindi un traffico di prossimità, ma anche in molti paesi indigenti nel mondo, in particolare paesi africani, arrivano veramente per ogni forma di sfruttamento, non solo lavoro forzato o sfruttamento sessuale. Abbiamo veramente purtroppo un ampio spettro di forme di sfruttamento di cui sono vittime. Quello che abbiamo visto per quanto riguarda per l'appunto le vittime è che in tutti gli Stati membri abbiamo bisogno di rafforzare la capacità dello Stato di proteggere, proteggere le vittime. Molte di queste vittime rimangono ignote, non denunciano i maltrattamenti e non sono neanche in grado di cooperare durante un'indagine o anche in un possibile esito giudiziario, proprio perché non sono protette in maniera adeguata, perché il livello di protezione non è adeguato, quindi non sono in grado di cooperare. Noi cerchiamo, stiamo lavorando con i vari Stati membri per vedere in quali paesi o anche fuori vengono garantiti i livelli di protezione adeguati. A volte addirittura si rivela necessario fornire un'identità diversa, una nuova identità, sostegno psicologico, sostegno morale, sostegno materiale per aiutare poi le autorità a trovare i colpevoli, i criminali che sono alla radice di questi fenomeni. Un tipo di sostegno che noi promuoviamo è tramite tramite le organizzazioni della società civile che sono sul territorio, ce ne sono molte anche in Italia, che aiutano le vittime e che in qualche maniera fanno da raccordo tra le vittime e le autorità di polizia e le autorità giudiziarie, proprio per facilitare la partecipazione delle vittime all'iter, diciamo investigativo giudiziario e su questo abbiamo bisogno di maggiore assistenza. Grazie. La ringrazio dottor Nonidi, ci sono altri interventi? Nessun intervento, quindi ringraziandola nuovamente per il prezioso apporto rispetto all'audizione che si è tenuta oggi in bicamerale Schengen. A risentirci dottor Onidi la disturberemo sicuramente per un aggiornamento nei prossimi mesi. Grazie a lei. Arrivederci, grazie. L'audizione è conclusa. Grazie. 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 Grazie.